Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come La triste verità nella vita di Michelle Hunziker. La donna ha lasciato un messaggio rivelatore attraverso Instagram Anni di grandi soddisfazione e di un'esposizione mediatica davvero importante La vita di Michelle Hunziker nel mondo dello spettacolo ha vissuto davvero tanti momenti molto intensi sotto il punto di vista lavorativo Merito di quello che ha fatto la conduttrice svizzera all'interno di un percorso che l'ha portata a diventare uno dei personaggi più seguiti nel mondo dello spettacolo Sempre sorridente, pronta ad animare il pubblico sul piccolo schermo ma anche intrattenere attraverso i social Michelle Hunziker.Poi, va detto, gli ultimi mesi sono stati anche molto complessi La rottura con Tommaso Trussardi ha sicuramente scombussolato la vita di Michelle, che si è ritrovata a chiudere una relazione molto importante e durata tanti anni Al netto del dolore che si prova quando si arriva a finire una storia di questo tipo, la Hunziker ha anche rivelato che tra lei e l'ormai ex compagno non sono rimasti particolari attriti, ma anzi c'è affetto e stima reciproca Praticamente la stessa situazione che ha vissuto anche quando si è detta addio con Eros Ramazzotti In quel caso la coppia era sotto una costante luce dei riflettori, e quando arrivò la notizia della rottura tra i due il pubblico ed i fan di entrambi rimasero assolutamente senza parole Ad oggi, però, tra Eros e Michelle è rimasto un fantastico rapporto Al centro, poi, anche la figura di Aurora, figlia che ha saputo tenere in qualche modo uniti mamma e papà Michelle Hunziker, l'annuncio svela una triste verità.Come detto, Michelle è una che usa tantissimo i social In particolare il suo profilo Instagram viene aggiornato quotidianamente e sono tantissimi gli scatti e di video che la donna pubblica e condivide con i suoi follower Migliaia di persone aspettano ogni giorno i contenuti pubblicati dalla Hunziet, e spesso emergono anche delle tematiche molto particolari ed anche retroscena inaspettate Stories di Michelle Hunziker.In queste ore anche Michelle ha festeggiato la Pasqua e giorni di spensieratezza La donna ha pubblicato una stories dove ha toccato proprio il tema delle festività ed il ritorno al lavoro È stata una Pasqua pazzesca. Soleggiata, bellissima, ha spiegato Michelle che poi ha fatto una rivelazione che ha lasciato molti fan senza parole Io sono riuscita a stare un po' con le mie bambine, e adesso si ritorna a casa, ha spiegato la conduttrice Un messaggio che cela evidentemente un aspetto molto triste della vita di Michelle, il tempo è poco, e non la donna non riesce a trascorrere tanto tempo con le figlie Ecco perché le festività, in questo senso, assumono un valore ancora più importante Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao